Dov'ora? Però? Un quattro giga Però le usb HD e usb Cazzo, cosa vuoi su? Adesso che più le libri venivano Ma se non è sull'altarietà andiamo su una Andiamo su una Ah, che roba Adesso vuoi su quella Dopo di 99 aveva disimato E' migliore che è testo Però di capitale 99 francese Perché si è acceso Sembrava un po' un pezzo Allora, la vostra Eh Grazie Le siamo per la messa e la guapero Si si Le è stesse Si si ma le è formato le calabidi Le alvisi che vada Sto qui La vuol più da Grazie per l'interno Prego Le metti su giubbotto Eh si la qui No no Per caluzione Sì Buona giornata Grazie. 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 Grazie.